alle sfide e alle esigenze che vengono avanti, una compagine sociale che abbia le caratteristiche naturalmente di sapere operare bene sul mercato, perché anche qui l'ILVA non è un'azienda decotta, non è un'azienda che non ha un futuro, l'Italia non è un mercato per l'acciaio che è trascurabile. Allora noi chiediamo al Governo molta attenzione quando dalla fase delle manifestazioni di interesse passeremo all'analisi e all'avvio della procedura prevista dalla Marzano per l'accessione, perché si formi un'accordata solida economicamente e industrialmente che dia una risposta non solo momentanea ma di prospettiva all'ILVA e alla siderurgia italiana, perché questa è una sfida che noi dobbiamo vincere non solo per quelle migliaia, decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che si occupano e che sono occupati all'interno di queste aziende, ma anche di tutto il Paese dell'economia e del futuro produttivo dell'Italia. Grazie, onorevole Benamati. Chiedo di intervenire l'onorevole Duranti. Prego. Grazie, signor Presidente. Questo ennesimo decreto non solo, a mio giudizio, non risolverà le problematiche degli stabilimenti del gruppo ILVA e in particolare quelle dello stabilimento di Taranto, ma rischia di aggravare una situazione che è insostenibile oramai da decenni. Il Governo Renzi e prima ancora quello a Guidamonti e a Guidaletta hanno messo in campo provvedimenti ed interventi che sono serviti a spostare esclusivamente in avanti i problemi, senza prospettare soluzioni definitive. Questo decreto riguarda nello specifico, come è stato già ricordato, la procedura di cessione dei complessi aziendali dell'ILVA-SPA in amministrazione straordinaria. Fissa al 30 giugno 2016, il termine entro il quale i commissari debbano espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, dispone l'erogazione di 300 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria, che l'aggiudicatario dei complessi aziendali dovrà comunque poi restituire. Ma l'erogazione dei 300 milioni di euro è esclusivamente prevista per il trasferimento ad un privato o, come si dice in questi ultimi giorni, a una cordata di privati. Una vera e propria, secondo noi, accelerazione verso l'accessione in una situazione gravissima, in cui appunto si trova a vivere lo stabilimento di Taranto in particolare, ma a tutti gli stabilimenti del gruppo ILVA-SPA. Quindi un'accelerazione improvvisa è stato necessario appunto per il Governo emanare il nono decreto sull'ILVA per accelerare la svendita dello stabilimento. È stato pubblicato poi il bando di invito a manifestare interessi appunto in riferimento al trasferimento dei complessi aziendali. Io lo dico non perché non riconosca le capacità e le competenze della sottosegretaria che oggi è qui ad ascoltarci, ma auspichiamo che durante la discussione, la votazione degli emendamenti e poi le dichiarazioni di voto, insomma, durante la conversione di questo decreto, ci facciano onore, piacere della loro presenza anche la Ministra Guida e il Presidente Renzi, che hanno assunto su di loro direttamente la responsabilità del destino degli stabilimenti del gruppo aziendale dell'ILVA, in particolare di quello di Taranto. Il bando, la Ministra Guidi lo ha pubblicato appunto, è stato già ricordato, il 5 gennaio scorso, cioè prima che le commissioni referenti avviassero i lavori di discussione e votazione degli emendamenti, cioè prima che i deputati e le deputate potessero in qualche maniera dare indicazioni rispetto alle linee guida del bando stesso. Noi crediamo che questo sia un ulteriore attacco alle prerogative del Parlamento. Si va, insomma, con questo nono decreto verso una cessione ai privati che, posto che va da buon fine, abbiamo forti dubbi anche in questo senso, proprio per le norme contenute del decreto oggi in conversione, peggiorerà la situazione ambientale e sanitaria del territorio e quella occupazionale. Su questo tornerò più tardi, sia sulla tenuta dei livelli occupazionali che sulle misure per l'ambiente, per le misure di tutela sanitaria. Era necessario altro, secondo noi. Si poteva percorrere un'altra strada, per la verità l'abbiamo suggerita anche in occasione della conversione degli altri decreti sull'ILVA. Noi pensiamo che sia indispensabile portare a termine l'operazione ILVA non con una cessione ai privati, ma con l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in una nuova società capitale pubblico, con un intervento diretto dello Stato per questa via, evidentemente. Le aziende oggetto di intervento potrebbero essere capitalizzate dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla base di un business plan che prevede investimenti di innovazione, sia di innovazione di processo che di innovazione di prodotto e in investimenti di carattere ambientale. Io voglio ricordare che la Cassa Depositi e Prestiti ha un assetto delle sue partecipazioni che si configura in questo modo. È diviso in società quotate, società non quotate e fondi equiti. Sono nove fondi, questi ultimi, di cui tre dedicati alle imprese. Fondo strategico italiano, 4 miliardi di euro, Fondo italiano investimento 500 milioni e il Fondo di investimento europeo, 50 milioni. Noi abbiamo proposto e continuiamo a proporre di istituire un fondo equity oppure di partecipazioni specifiche nel settore dei metalli. Perché non si può fare? Perché le ingenti risorse che sono state utilizzate finora e che non hanno in alcun modo garantito l'applicazione di misure e di tutele ambientali e sanitarie, né il mantenimento dei livelli occupazionali, devono essere regalate a cordate di privati. Voglio ricordare che in una di queste cordate si prevede anche l'ingresso di Marcegaglia. Io che vengo da Taranto, sottolineo sommessamente che Marcegaglia a Taranto ha chiuso uno degli stabilimenti di produzione di energie rinnovabili, lasciando a casa 182 lavoratori. E questa insomma la dice lunga di qual è l'idea di sviluppo industriale che un'azienda come Marcegaglia, che dovrebbe entrare appunto in questa cordata di privati, ha. Per cui noi pensiamo che vada invece ripreso un intervento pubblico. Pensiamo che andassero presi provvedimenti diversi. Ci sono stati tempi. Ci sono stati tempi, sono passati quattro anni dal primo decreto del 2012. Ci sarebbero stati tempi per aprire un confronto vero sul tema che coinvolgesse gli enti locali, le organizzazioni sindacali, gli istituti e gli enti di tutela ambientale e sanitaria, le associazioni e lasciatemelo dire il Parlamento, relegato invece fino ad oggi per ben nove decreti a mero ratificatore delle decisioni del Governo, posto che è stato utilizzato per l'appunto sin dall'inizio lo strumento del decreto legge. Si sarebbero potuti evitare errori grossolani e scelte sbagliate, sbagliate per la salute dei cittadini e dei lavoratori di quello stabilimento. Scelte sbagliate che di volta in volta hanno contribuito al percorso seguito e all'esito gravissimo attuale. Alcuni esempi. Nel tempo e attraverso i vari decreti è stata eliminata la figura del garante per l'AIA. Oggi ci rendiamo conto tutti di quanto sarebbe stata necessaria invece questa figura di garanzia per l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA. È stata esclusa la valutazione del danno sanitario, come definito dalla legge della Regione Puglia, una valutazione di danno sanitario che avrebbe messo, se fosse stato rispettato appunto al primo posto, le ricadute della produzione sulla salute dei cittadini e dei lavoratori. La scelta di commissari in questi anni che non hanno competenze specifiche nel settore siderurgico. La superficialità è stata ricordata, con la quale è stata trattata alla delicata questione dei fondi sequestrati a Riva, l'ormai scomparso miliardo e duecento milioni di euro. Appunto voglio ricordare la sentenza del Tribunale di Bellinzona, che ha stabilito che non sono disponibili quei fondi fino a sentenza definitiva. Eppure sulla base di quei fondi si è emanato un decreto, appunto quello ricordato del 2015, e sulla base di quei fondi si era predisposto un comma alla legge di stabilità, dove appunto erano previsti 800 milioni di euro di investimenti per l'Ilva. Oggi, poiché appunto quei fondi non sono più disponibili, i fondi di Riva sequestrati a Riva non sono più disponibili, oggi quegli 800 milioni che potevano, se il comma del 837 della legge di stabilità non fosse stato soppresso, essere esigibili subito, invece sono stati spacchettati. Si parla di 800 milioni complessivi, operando una finzione. Sono 400 milioni a valere sulle risorse destinate nel precedente decreto, quello del marzo 2015, e altri 400 milioni freschi, per così dire. E sono spacchettati, divisi in due anni. 600 milioni complessivi per il 2016 e 200 per il 2017. Quindi si sposta in avanti l'utilizzo di questi fondi e vengono ridotti rispetto alla previsione iniziale. Ma ancora altre scelte sbagliate, come lo stravolgimento di norme costituzionalmente fondate, dallo scudo giudiziario per la responsabilità penale, amministrativa e oggi persino civile, anche questo è stato ricordato, dei commissari e dei loro delegati. Lo dico al relatore che prima è intervenuto, dicendo che non ci sono state osservazioni da parte delle commissioni. Ricordo che la prima commissione, invece, ha espresso un parere con osservazioni esattamente su questo punto, dicendo appunto attenzione perché c'è una norma che prevede lo scudo giudiziario, può essere appunto a rischio di costituzionalità. C'è un'osservazione precisa della prima commissione. La possibilità ancora, che era stata inserita nel decreto del luglio 2015, di dissequestro degli impianti anche in presenza di infortuni mortali. Anche qua un diritto costituzionalmente fondato è stato in qualche maniera superato, bypassato, stravolto da uno dei tanti decreti sull'Elva. Lo spostamento in avanti, sino a giugno 2017, voglio ricordare che in commissione attività produttive e ambiente, lo spostamento in avanti dell'attuazione del piano per le tutele e le misure ambientali e quindi delle prescrizioni dell'AIA era previsto al giugno, al dicembre 2016, addirittura in commissione. Avete votato un emendamento che lo sposto ulteriormente di altri sei mesi, quindi si sposta l'attuazione del piano ambientale al giugno 2017. La possibilità ancora, che siano i futuri acquirenti o affittuari dei complessi aziendali a modificare il piano ambientale, che voglio ricordare a norma di un precedente decreto e anche vale come modifica delle prescrizioni AIA, per adeguarlo al piano industriale. Piano industriale che non è stato mai realizzato e che invece, almeno questo avrebbero potuto, lo dico così, fare i commissari in questi anni, redarre, presentare, pubblicare un piano industriale e realizzarlo. Invece no, con questo decreto si lascia ai futuri acquirenti o affittuari la possibilità di modificare il piano ambientale per appunto adeguarlo al piano industriale. Io voglio ricordare la relazione che ci ha proposto, nonostante appunto non sia stato possibile effettuare audizioni, così come fatto in altre occasioni nelle commissioni ambienti e attività produttive, la relazione che ci ha consegnato l'ARPA Puglia, proprio in merito alle modifiche del piano ambientale e allo spostamento in avanti dell'attuazione delle prescrizioni AIA. L'ARPA Puglia dice che, grazie alle norme, o meglio, a causa delle norme contenute in questo ennesimo decreto, si vanifica la verifica dell'effettiva realizzazione dell'80% delle prescrizioni. Non sarà più necessaria la preliminare attestazione di ISPRA e ARPA, che hanno effettuato attività ispettive negli ultimi giorni di luglio 2015, per verificare l'effettivo stato di avanzamento delle misure del piano ambientale. Si prevede ancora, qui lo dico al collega Benamati, che dice che comunque questo decreto servirà all'ambientalizzazione, sarà rispettata la normativa europea. No, si prevede il rinvio della decisione 2012-135 dell'Unione Europea, della commissione del 28 febbraio 2012, proprio sulle migliori tecniche disponibili, le cosiddette BAT, per la produzione di ferro ed acciaio, prevista entro l'8 marzo del 2016. Giova a ricordare che la procedura di riesame del decreto AIA del 2011 per l'esercizio dell'ILVA viene avviata proprio in rispetto della suddetta decisione. Con questo decreto, invece, quella decisione, quindi l'adeguamento alle BAT, salta. Tutto ciò, quindi il mancato rispetto del piano ambientale e dell'attuazione delle prescrizioni AIA, è aggravato, appunto, come dicevo, dalla mancanza di un piano industriale e di una benché minima idea di politica industriale, rispetto in riferimento ad un settore, anche per noi strategico, come quello siderurgico, anche qui i miei colleghi lo hanno già ricordato, e però sembra che questo Governo non si accorga di quello che succede in Europa e, peraltro, cosa ancora più grave, questo Parlamento non si è potuto confrontare su quello che accade in Europa. Voglio ricordare che in Europa è stato emanato un documento sullo sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli di base, approvato il 23 ottobre 2015 dalla Commissione Industria, Ricerche ed Energia del Parlamento europeo, che prevede che sia necessario prevedere sostegni finanziari in riferimento all'industria dei metalli, rivolti agli investimenti ambientali e al risparmio energetico. Voglio ricordare anche che dovremmo sfatare un altro falso mito, un'altra falsa idea, che è stata ripetuta anche qui dal collega che mi ha preceduto, che i costi di protezione ambientale sono altissimi. Non è così. Se discutessimo di questo, scopriremmo, come hanno scoperto gli studiosi della materia, che i costi di protezione ambientale, l'incidenza dei costi di protezione ambientale è marginale rispetto ai costi delle materie prime e dell'energia, nel 2012 i costi di regolazione e protezione ambientale erano 12 euro a tonnellata a fronte di un costo totale di 600 euro. Ma noi non discutiamo. Il Governo Renzi non abbiamo ben compreso che cosa va a raccontare, che cosa va a dire in Europa quando si parla di politica industriale. Voglio ricordare che questo Governo non ha mantenuto neanche un impegno previsto, credo dal decreto del 2013, nel quale appunto si impegnava ad aprire una discussione sulla filiera dell'acciaio. Neanche questo. La situazione ambientale e sanitaria a Taranto continua ad essere gravissima. Sappiamo che quel territorio è sempre più gravato da situazioni di malattie molto diffuse, che colpiscono i lavoratori dello stabilimento, ma colpiscono anche i cittadini. Eppure si liquida con estrema facilità e con estrema superficialità questo decreto, dicendo che potrà mettere mano all'ambientalizzazione. Non sarà così non solo perché le risorse non sono sufficienti, ma perché si continua a spostare in avanti il termine dell'applicazione delle prescrizioni AIA. E anche dal punto di vista sul fronte della tenuta dei livelli occupazionali. Anche qui, lo dico ai relatori, c'è stato un intervento, un'osservazione nel parere della Commissione Lavoro, dell'undicesima Commissione, in cui si dice attenzione, valutate attentamente la situazione della tenuta dei livelli occupazionali dei lavoratori delle ditte dell'indotto. Io aggiungo anche la tenuta dei livelli occupazionali dei lavoratori diretti, per cui anche la Commissione Lavoro ha provato, seppur nel parere aggiungendo un'osservazione, inserendo un'osservazione e non una condizione, a dare l'allarme sulla tenuta dei livelli occupazionali. Niente si dice su questo decreto. E' alcun emendamento, e non è passato alcun emendamento, in riferimento invece alla tenuta dei livelli occupazionali, alla continuità dei livelli occupazionali, alla continuità di reddito dei lavoratori diretti e dell'indotto. Voglio ricordare che, grazie al vostro Jobs Act, dal 2 marzo, i lavoratori dei gruppi aziendali dell'ILVA-SPA si ritroveranno a non avere più l'integrazione salariale sui contratti di solidarietà, ma gli ammortizzatori sociali dovranno essere relativi ai massimali della cassa integrazione, cioè ridotti del 10% rispetto agli attuali contratti di solidarietà, cioè senza la tredicesima, senza la quattordicesima, quindi con una riduzione notevole di reddito di lavoratori che continuano a pagare sulla loro pelle, la mancanza di sicurezza in quello stabilimento e la mancata ambientalizzazione. Insomma, chiudo dicendo che non solo questo decreto non è sufficiente, questo decreto è dannoso, servirà soltanto a fare un regalo ai privati di turno che vogliono mettere le mani sulla produzione dell'acciaio, produrrà probabilmente ricadute drammatiche su livelli occupazionali sia dell'indotto che dei diretti, non produrrà, ripeto per lo spostamento in avanti di tutte le prescrizioni ambientali, non produrrà salute e ambientalizzazione di quel territorio, probabilmente il vando andrà deserto perché davvero io non so se ci prendete in giro, oppure se ci credete davvero, pensare che nel giro di un mese si possa mettere sul mercato l'Ilva e trovare acquirenti disponibili ad aggiudicarsi i complessi aziendali e tutto questo vada fatto entro il 30 giugno 2016 con un'accelerazione che non era proprio in campo, non so come dire, davvero a noi sembra piuttosto improbabile, quindi invece pensiamo che il bando possa andare deserto. E comunque in ogni caso noi ci ritroveremo a gestire, a continuare a gestire una situazione gravissima, insostenibile e chiudo con le parole che sono state dette dal mio collega di gruppo, penso che avreste dovuto perlomeno fare un'autocritica. Nuove decreti non sono bastati a modificare la situazione dello stabilimento Ilva di Taranto e complessivamente di tutti gli stabilimenti aziendali, non avete posto rimedio alla situazione ambientale e sanitaria, rischiate di lasciare un deserto occupazionale e ambientale e probabilmente ci richiamerete qui a convertire un ennesimo decreto spostando sempre in avanti la soluzione ad un problema che invece è già scritta, già scritta negli atti dell'Unione Europea, già scritta negli atti degli studiosi e degli esperti della materia, potrebbe essere già scritta anche in una discussione, in un approfondimento vero all'interno del Parlamento, solo se il Governo Renzi, il Presidente Renzi e la Ministra Guidi decidessero finalmente che dell'Ilva si deve occupare il Parlamento e non può continuare ad occuparsi un Governo che continua ad andare avanti per slogan e per approssimazioni, provocando danni incancolabili per l'oggi e per il domani. Grazie. La ringrazio. Onorevole Pili, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Grazie Presidente, se non fossimo in un'aula parlamentare potremmo definire senza ironia alcuna questo decreto come il più alto esercizio di azzecca garbugli che Renzi e compagni hanno messo in campo in questi venti mesi. E vista l'esperienza accumulata, possiamo ben definire questo Governo come il più autorevole esperto di carpenteria metallica. Nessuno come Renzi era mai riuscito a introdurre in un consesso parlamentare in così poco tempo tanti decreti sullo stesso argomento. Renzi, da aspirante carpentiere, con la stessa dimestichezza di un elefante